Ora chiamiamo sul palco Panna Gioia, deputata della Repubblica, che sta arrivando, c'è un po' di musichetta che arriverà, che ringraziamo particolarmente perché è il secondo anno che viene qua, è di nuovo, è di casa diciamo, perché stamattina è stata al tavolo di Legas. Grazie, grazie a voi. Io sono qua per proporre un'innovazione da un certo punto di vista immateriale o meglio che riguarda le relazioni e quindi vorrei parlare del nuovo welfare, del welfare generativo. Voi sapete che ad oggi il nostro paese spende il 90% della sua spesa di welfare in benefit monetari, e solo il 10% lo spende in servizi. In più questi servizi e questi benefit monetari sono generalmente tesi a risolvere delle situazioni di precarietà economica materiali riferiti a delle categorie ben precise, disabili, immigrati, anziani. Quindi pensare a un nuovo welfare vuol dire fare proprio un cambiamento di idee e cominciare a pensare che le persone possono anche dare, non solo ricevere, è una concezione che fa passare il ruolo di assistito, di bisognoso a un ruolo diverso, un ruolo attivo, un ruolo di chi può anche restituire qualcosa. Quindi io, stato, ti do, ma ti chiedo anche tu che cosa mi puoi dare in cambio. E parte dal presupposto che non c'è nessuno che non sia in grado di dare qualche cosa. Non so se avete visto l'ultimo film di Ken Loach, io, Daniel Baker. Ecco, in questo film il welfare è proprio rappresentato in tutte le sue rigidità che fa male non solo agli utenti ma fa male anche a chi lo amministra questo welfare. Allora, qui quello che funziona, quello che fa, che aiuta davvero le persone è la loro capacità di creare rete tra loro e di mettere insieme ciò che ciascuno può dare all'altro. Bene, questa prospettiva è la prospettiva che in un tempo come il nostro bisogna che cominciamo anche noi a mettere in piedi perché fino a quando il welfare ridistributivo era quello che consegnava alle persone ciò che aveva recuperato dal prelievo fiscale ma questo andava bene quando c'era il lavoro fisso, stabile e tutti quindi potevano contribuire fiscalmente a una raccolta di denaro che andava poi ridistribuita alle persone bisognose. Oggi il lavoro da un lato è diventato sempre più precario e quindi sempre più difficile questa raccolta precario, instabile, variegato. Dall'altro i bisogni si sono fatti sempre più differenziati e quindi stanno sempre meno dentro le gabbie delle categorie delle persone bisognose. I bisogni sono spesso di confine, si sovrappongono, sono bisogni anche nuovi e quindi per dare risposte nuove noi abbiamo bisogno di un welfare nuovo e questo welfare nuovo è ben rappresentato nel film Daniel Blake dove nascono delle relazioni di aiuto tra le persone. Allora favorire relazioni di aiuto vuol dire non considerare più il bisognoso come colui che deve solo ricevere ma colui che può anche dare in cambio e questo scambio genera un arricchimento recintroco, genera un arricchimento di risorse materiali e immateriali fa crescere la solidarietà, fa crescere la comunità, fa incontrare persone e quindi in questo senso diventa davvero uno sguardo nuovo meno ISEE e più empowerment potremmo sintetizzare, cioè guardare davvero a ciò di cui le persone hanno bisogno perché è da qui che può partire un welfare innovativo e io ho presentato una proposta di legge su questo welfare generativo e vi dico solo questo perché vi farà sorridere. Quando la persona dell'ufficio legislativo da cui passa ogni proposta di legge l'ha ricevuta mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto ma non costa niente? No, e questa è proprio l'idea vecchia che noi abbiamo, se si fa una proposta di welfare nuovo deve costare qualcosa, beh questo non costa niente si tratta non di usare nuove risorse ma di usare meglio le risorse già esistenti. Grazie. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.